Ma senti i rumori? Pum! Tic! Tic! Questa sentiva il rumore! Sì, questo qua... Questi sono scendi Questi sono scendi Appena toccano questo qua in basso Ma che pensava? Appena muovono qua sotto Sto scendendo tutti Ma questo non lo senti qua Avanzo! Così non lo faranno Secondo me lo dovevano fare così Se non... Ma vedete che spiegate! Ma vedete che sono due 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 due